Invito qua a parlare Domenico Pantaleo, FLCCGL. Le proposte che oggi vengono offerte alla discussione meritano sicuramente un confronto culturale che nel Paese non c'è. Nel senso che si sta facendo, come diceva Andrea, una nuova riforma, esagerata secondo me questo termine, una serie di interventi che secondo me non hanno un'anima, non hanno un profilo, non hanno una visione d'assieme, al solo fine di dare un po' di spot pubblicitario. Ora, io penso che se si vuole effettivamente innovare c'è bisogno di avere un orizzonte, c'è bisogno di avere chiaro dove collocare il nostro sistema di istruzione nei prossimi anni e soprattutto qual è il rapporto tra il modello di istruzione e il modello di società, il modello di economia, il modello di lavoro che hai. Perché è del tutto evidente che se tu metti in campo una proposta come il Jobs Act, che in realtà restringe i diritti e pensa ad una competizione tutto sui bassi salari e sull'abbassamento dei diritti, è del tutto evidente che l'istruzione nella testa di chi oggi vuole fare questo provvedimento sta esattamente in quell'orizzonte. Seconda considerazione, per queste ragioni io penso che al di là delle proposte, anche noi come FLC abbiamo il cantiere scuola, ma ci sono tante altre proposte, la LIP, tante proposte fatte in Parlamento, cioè c'è un fermento teso in qualche maniera a dire apriamo una discussione. Ecco, io penso che il primo obiettivo è quello di tentare di aprire una discussione. perché oggi in realtà la discussione è chiusa, è tutta chiusa all'interno delle aure parlamentari, il Paese non discute, chi sta dentro alle scuole non discute e quindi la riconquista di un terreno democratico è fondamentale se si vuole evitare di cadere in un tecnicismo fine a se stesso. Terzo punto. Credo che non si può separare, come si sta facendo, le tante emergenze quotidiane che il sistema di istituzione deve affrontare, anche qui diciamo nelle proposte fatte, in qualche maniera questo avviene, è la prospettiva. Cioè nel senso che tu quotidianamente hai scuole senza risorse, sistema di edilizia scolastica ormai faticente, laboratori che devono essere ricostruiti, mancanza di un diritto allo studio, precarietà dilagante, e qui guardate sta venendo una cosa che grida ventetto, non si può fare un'operazione in cui illudi 150.000 persone di una stabilizzazione e poi dire, no abbiamo scherzato adesso. Guardate, questa cosa qui apre una ferita sul terreno democratico, prima ancora che sul terreno sociale, così come non si può pensare di dire merito, queste dottrine, competizione, meritocrazia, in cui fai delle scuole una sorta di aziende, diciamo, in cui c'è uno che comanda e gli altri che obbediscono, perché quello è il sistema, penso al ruolo della dirigenza scolastica, che influirà anche sui sistemi di valutazione, attenzione, perché quel sistema porta un sistema autoritario anche sui temi della valutazione, altro che democrazia e partecipazione degli studenti. Quindi io penso che, questo è il tema, e chiudo, se questo, dobbiamo sapere che se oggi si vuole cambiare la scuola c'è soltanto una strada, mettere in campo una grande coalizione di forze, ognuna con la propria specificità, con le proprie opinioni, cercare di approfondire, mettere in campo in qualche maniera, come si può dire, una controproposta dal basso in grado di parlare, da un lato, agli studenti, dall'altro lato, ai territori, ai precari, a chi oggi nella scuola sta, perché se non è così, guardate, noi corriamo il rischio di avere una scuola che, ancora una volta, regredisce sul piano culturale, perché l'idea è quella di una scuola ridotta a pur addestramento, in cui il profilo culturale in qualche maniera viene meno, e la divisione tra tecnici, professionali e licei lo dimostra. Ma attenzione, c'è anche un altro rischio, quello di una forte corporativizzazione all'interno stesso del mondo della scuola, in cui anche le diverse componenti che oggi ci sono, gli studenti, i docenti, i dirigenti scolastici, il personale ATA, le famiglie, il territorio, in qualche maniera ognuno si rinchiuda all'interno di piccole nicche di interessi e manca una discussione culturale. Per questo io penso, e insisto e chiudo, che c'è bisogno di mettere in campo oggi di fronte ad un atteggiamento di scarsa propensione ad una discussione, un forte iniziativa. I sindacati unitariamente hanno definito un percorso di mobilitazione che porterà l'11 aprile ad una grande manifestazione nazionale. Io credo che quello è il terreno per riconquistare effettivamente una riforma all'altezza dei tempi e di ciò che oggi all'interno delle proposte ci sono. Grazie Pandaleo.